Pocket Tournament Pocket Tournament prende forma come il sogno di buona parte degli appassionati di Pocket Monsters che da sempre spera di aggiungere un po' di brio alla struttura classica della serie, immaginandosi nuove meccaniche action in grado di replicare in maniera più fedele la spettacolarità degli scontri visti nella serie tv. Il pugno di ferro di Katsuhira Rada promette faviglia da questo punto di vista, trasportando tutta l'esperienza maturata negli anni con Tekken in un picchiaduro che getta nuove e interessanti basi sulla concezione del genere. Il titolo Bandai Namco introduce infatti un sistema di combattimento ibrido che alterna situazioni di gioco 3D a momenti di classico uno contro uno nello stile delle eterne schermaglie del King of Iron Fist, con risultati direttamente proporzionali alla volontà del giocatore di investire tempo e dedizione. Le sfide hanno luogo inizialmente in quella che viene definita fase panoramica, in cui controlliamo il nostro partner Pokémon attraverso un ambiente tridimensionale, rimanendo però costantemente agganciati con la visuale sull'avversario. Ne risultano movimenti meno liberi di quanto si possa immaginare, limitandosi a ridurre o aumentare la distanza e a soltare il movimento laterale, sempre raccordato a partire dalla posizione del nemico. A seguito di colpi decisivi, l'azione di gioco muta tra tridimensionale e bidimensionale, passando alla fase di duello, in cui ci si frontegge a visuale laterale senza possibilità di fuga. Pur avendo a disposizione un numero ridotto di combo rispetto a titoli che hanno fatto delle concatenazioni e del juggling la propria forza, è in questa occasione che arriva il momento di massimizzare lo sforzo giocando in maniera aggressiva e mostrando i frutti del proprio allenamento nel dojo. L'alternanza tra le due fasi diventa cruciale alla luce del variegato roster che pur non brillando per numero, 16 personaggi in totale, propone stili di gioco diversificati a seconda della struttura fisica e della mobilità del Pokémon scelto. Blaziken, Lucario e Machap sono entri più riconducibili agli archetipi classici del genere, nei limiti di un contesto simile ovviamente, per via del loro spiccato antropografismo che porta ad una lettura dell'azione tendenzialmente più semplice. Ma basta passare a Saikon e Chandelure per capire che la padronanza del gioco è subordinata ad una lunga fase di apprendimento dei moveset e la loro applicazione nelle diverse situazioni. Vi sono infatti i Pokémon più avvantaggiati nella fase panoramica, grazie agli attacchi a distanza o la capacità di creare elementi di disturbo nello scenario che faranno ovviamente il possibile per non essere coinvolti in una fase in duello in cui qualche colpo ben assestato può demolire qualsivoglia strategia attendista. Le arene di differente forma e dimensione, a loro volta, contribuiscono a generare situazioni di potenziale handicap da cogliere al volo. L'esperienza del giocatore singolo si concentra nel rapporto simbiotico con il partner Pokémon scelto inizialmente, con cui affrontare le sfide della Lega Ferrum e affermarsi come campione assoluto. Passando però prima da una serie estenuante di scontri attraverso le quattro classi, verde, blu, rossa e croma, di difficoltà crescente e dal numero sempre maggiore di rivali da scavalcare in classifica. L'inesistente personalità dei numerosi rivali che troveremo sulla nostra strada stona con la discreta caratterizzazione dei maestri di Lega e fa domandare se non sarebbe stato meglio concentrarsi nel creare altri personaggi originali sui quali costruire una trama più consistente che andasse oltre gli eventi legati a Mewtwo nero e agli sporadici, quanto inutili, dialoghi con i nostri anonimi avversari. Un picchiaduro con bellità competitive, però, rende il meglio in un'ottica multiplayer e l'offerta di Pokken Tournament da questo punto di vista può dirsi completa sebbene non sorprenda per originalità e debba scendere a compromessi tecnici che possano fa storcere il naso. È il caso del multiplayer locale che vede i due sfidanti segnati uno allo schermo della tv e l'altro al gamepad, obbligatoriamente. Vista la natura mutevole del gameplay, si tratta di una soluzione inevitabile, in quanto uno spill screen avrebbe offerto una resa discutibile. Ma ciò al tempo stesso si traduce in un framerate dimezzato, a causa del doppio rendering della scena di gioco, e nel complesso in una presentazione che sfigura rispetto ai 60 fps del single player o della modalità online. In rete si ha l'opportunità di affrontare sfide classificate e non, affrontando sconosciuti nel globo o i propri amici. L'azione a volte risente della distanza, ma il netcode è sufficientemente adeguato a garantire una buona frizione del gioco online. I più coraggiosi potranno inoltre sfruttare l'interessante modalità LAN, che permette di collegare due console e due tv per ricreare il setup della sala giochi senza alcuna rinuncia quanto a prestazioni. Pokken Tournament dimostra una buona solidità complessiva nel comparto tecnico, grazie ai modelli riusciti, animazioni soddisfacenti e un gameplay che schizza senza quasi mai incertezza a 60 fps, generando spesso situazioni davvero spettacolari appaganti per l'occhio. Entrando nel dettaglio, però, si notano fastidiosi artefatti nella gestione delle ombre, e il rendering si rivela nel complesso poco efficace a livello di pulizia video, cosa che oltretutto fa risaltare gli elementi bidimensionali dei fondali. La sensazione è che si potesse fare di più, in special modo considerando il numero davvero ridotto di assets e contenuti, ma per quel che concerne attività e funzionalità dell'aspetto tecnico, non si possono muovere grosse critiche. Apprezzabile il character design, che però non si esprime a dovere per l'eccessiva somiglianza delle varie comparse, lasciando tutto nelle mani del giocatore e dell'editor, che permette di personalizzare il vestiario con gli elementi sbloccati e acquistati, oppure ottenuti tramite Amiibo. Pokken Tournament è un bel gioco, dall'enorme potenziale inespresso, a causa della sua natura di titolo piuttosto innovativo, in un genere che solitamente compie passi in avanti nel corso di anni e attraverso continui aggiornamenti e opere di bilanciamento. Si inserisce con successo nella libreria dei Master of Wii U, ma mostra le stimmate dell'incompiuto che, si spera, alla lunga non l'allontanino i giocatori alla ricerca di un prodotto già completo e soddisfacente sotto ogni punto di vista.